Ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati sul canale, buon venerdì mattina. Oggi facciamo un video, in realtà oggi avevo intenzione di girare e pubblicare più di un video poiché sono un po' rimasto indietro con le letture, o meglio con i video, e quindi avrei tante cose di cui parlare, di cui dirvi qualcosa a riguardo, ma stamattina iniziamo a parlare di Rio Kid, ovvero del numero 102 delle storie che è arrivato in edicola qualche giorno fa, intorno al 15-14 aprile. Come sapete la collana delle storie dal numero 101, quindi dal grande Yudo, che ha cambiato registro, anziché proporre delle storie inedite, delle, potremmo dire, graphic novel, romanzi grafici, quindi delle opere complete, autoconclusive e ovviamente inedite, dal numero 100 in poi si è trasformata in una collana che offre delle ristampe, ristampe di vecchi personaggi bonelli, bonellidi, bonelliani, finiti nel dimenticatoio, personaggi che non hanno mai goduto, in maniera vera e propria, di una serie, di una testata a loro dedicata, e che quindi vengono in qualche modo riesumati fondamentalmente da questa collana che cerca un po' di farceli conoscere o di riportarli in age, anche perché sono personaggi, deduco, molto difficili da recuperare, soprattutto oggi come oggi. Lo scorso mese abbiamo parlato del grande Yudok, che io avevo erroneamente denominato Yudok, ma invece poi mi avete corretto e mi avete spiegato che la reale pronuncia è Yudok, in realtà potevo arrivarci anche da solo perché il personaggio in questione praticava Yudo, non so come si pronuncia, comunque si chiama Yudok e non Yudok. Era un western fantascientifico, più che altro era una storia western con ambientazione fantascientifica, Yudok era modellato sulla figura di Tex Wheeler, d'altronde c'era Gianluigi Bonelli alla scrittura della storia, mentre invece Ticci ha i disegni. Qui in questo caso abbiamo sempre Gianluigi Bonelli, autore dei testi, insomma del soggetto e della sceneggiatura, Roy Dami ha i disegni, Roy Dami, pseudonimo di Rinaldo Dami, nato nel 1923 e morto nel 1979, e il personaggio in questione si chiama Ryo Kid. E mi devo scusare perché lo scorso mese ho commesso un'altra gaff, perché leggendo l'anticipazione del presente sul numero di Yudok di questo Ryo Kid, credevo che si trattasse di uno spaghetti western, fondamentalmente, perché la copertina, quindi la situazione descritta nella copertina, e l'introduzione che vi avevo letto mi suggerivano che si trattasse di uno spaghetti western. Invece no, invece si tratta di, come ho scoperto leggendolo, si tratta di un western classico che si può tranquillamente associare a tutto quel filone di film, ma anche di romanzi, vedremo poi dopo negli approfondimenti, che andavano di moda a quell'epoca. Io, francamente, se lo dovessi così, su due piedi, associare a qualcosa, questo Ryo Kid, io lo associerei a tutti quei B-movie western anni 50 con protagonisti Alan Led, piuttosto che Odie Murphy, Robert Taylor, Stuart Granger, Joel McCrea, e tanti attori di quell'epoca che erano dividi serie B, potremmo dire, c'erano i dividi serie A, John Wayne, Andre Fonda, Gary Cooper e quant'altro, e poi che lavoravano con i grandi registi e che quindi costituivano quelli che poi venivano intesi, sono tuttora intesi come capolavori, film di serie A del genere western, e poi c'erano tutte quelle star minori, appunto Alan Led, Robert Taylor, Joel McCrea, Stuart Granger, Odie Murphy, che era anche un militare, oltre che essere un attore, che erano protagonisti di film di genere, potremmo dire, di film appunto minori, più rozzi, più lineari, più banali, potremmo dire, e questo Rio Kid secondo me si associa in pieno a quei determinati film. Dunque, abbiamo Gianluigi Bonelli, autore dei testi, Roy Dami ai disegni, Roy Dami che è anche l'autore della copertina, copertina che devo essere sincero mi piace molto, è molto bella come copertina, è una copertina che giudico molto più interessante della precedente, il Grande Judo, che questa era disegnata da Ticci, qui invece la copertina è di Roy Dami, un disegnatore che non mi fa impazzire, i disegni della storia sono di Roy Dami, sono disegni che non mi fanno impazzire, sono disegni tipicamente anni 50, che si allineano diciamo alle tavole di quell'epoca, assomigliano molto ai primi Tex, quelli disegnati da Galep a partire dal 48, secondo me lo stile è somigliante, sono disegni che non mi fanno impazzire, sono disegni invecchiati piuttosto male, quindi si sente il peso degli anni, e devo dire che la differenza con il Grande Judo, che presentava disegni di Ticci, disegni secondo me molto interessanti, è grande, la differenza è grande, del resto ci sono anche più di dieci anni di differenza, perché mentre il Grande Judo, che era del 67, 66, una cosa del genere, 68, qui invece ci troviamo di fronte ad un personaggio creato nel 1953, e poi riproposto nel 68 all'interno della collana Rodeo, quindi un personaggio molto più vecchio, 1953 significa che soltanto 5 anni circa dopo la creazione di Tex, per cui evidentemente già Luigi Bonelli voleva in qualche modo affiancare a Tex una figura completamente opposta graficamente, Rio Kid è biondo con la camicia nera, mentre invece Tex è bruno con la camicia gialla, che nel bianco e nero risulta bianca, per cui secondo me voleva essere questo Rio Kid, che vi faccio vedere in queste immagini, con questo volto molto severo, poco incline al riso, a differenza di Tex, che inizialmente era anch'esso severo, ma ultimamente, o meglio, l'attuale Tex che noi conosciamo è molto più svagato, molto meno impostato rispetto a quello delle origini. Questo Rio Kid, secondo me, ripercorre in tutto e per tutto il Tex delle origini, non ci ho trovato grande differenza. La storia è la storia di una caccia al tesoro, Rio Kid si mette sulle tracce di un archeologo di nome Dayton che, assieme alla figlia, deve ritrovare un prezioso disco d'oro ubicato in un tempio a Zecos, perduto da qualche parte nel nord del Messico, e per farlo, insomma, per orientarsi, ecco, meglio, in queste terre, chiede l'aiuto di una guida, una guida, un certo Benito Rosales, un qualcosa del genere, che il nostro Rio Kid ben conosce e infatti questa, non so se sia la prima avventura di Rio Kid, perché i giochi sono già aperti, nel senso che la storia inizia con Rio Kid che dapprima arriva in una città e inscena un duello, come potete vedere da queste immagini, scontrandosi con un cattivo che sembrava già conoscere, quindi sembra una vicenda già iniziata in un albo precedente, e poi si mette appunto sulle tracce di questo Rosales, di questo Benito Rosales, che ben conosce, e anche Rosales conosce Rio Kid, quindi non lo so se questo sia l'inizio effettivo di Rio Kid, oppure se sia stato pescato soltanto, se sia stato scelto, così un albo in particolare, ma diciamo che i giochi sono già aperti, i personaggi si conoscono già da prima di questa avventura, per cui non saprei in questo senso. Comunque la storia è una tipica caccia al tesoro in salsa western, ben scritta, ben sceneggiata, compresa di tutti i cliché del genere, dal vecchio archeologo che deve ritrovare un tesoro, i banditi che lo insidiano, la bella di turno che deve essere salvata, insidie varie, è una storia tipicamente western, tipicamente bonelliana, potremmo dire, per cui non so neanche se consigliarvelo o meno, insomma può essere interessante soltanto agli amanti di quel determinato genere di racconti. vi faccio vedere ancora i disegni di Roy Dami, Roy Dami era un disegnatore molto conosciuto, molto celebre all'epoca, soprattutto per quanto riguarda questo genere di fumetti, tra l'altro Roy Dami, che sarà anche il disegnatore, a quanto pare l'autore completo del prossimo numero delle storie, che uscirà a partire dal 13 di maggio, ovvero il Sergente York, un altro western, e beh, che cosa dire, questo è quanto, è una tipica caccia al tesoro, salsa western, invecchiata male, se devo essere sincero, non è invecchiata bene, più che il soggetto, secondo me, che il soggetto è interessante ancora oggi, secondo me quello che appesantisce più di parecchio la vicenda sono i dialoghi, vedete che i dialoghi, insomma, le tavole sono molto cariche di dialoghi, quindi forse l'azione viene un po' interrotta, viene un po' rallentata da tutti questi dialoghi, anche queste, queste didascalie, che sovente intermezzano, diciamo, secondo me è un po' tutto appesantito da questi dialoghi, che contribuisce a... non lo so, è invecchiato male, è invecchiata male questa storia, rimane interessante per la storia, diciamo, della Sergio Bonelli editore, la storia che ci viene raccontata in questi approfondimenti iniziali, quindi rimane interessante, secondo me, come documento d'epoca, documento storico, più che altro, può essere interessante per i completisti, ovvero per chi vuole in qualche modo conoscere a fondo tutta la produzione bonelliana, anche nei suoi personaggi minori, io sinceramente l'ho preso perché sono un appassionato di western, a me il western piace moltissimo, per cui l'ho comprato per questa ragione, però a conti fatti, non è che poi sia un granché, sì, c'è fantasia, c'è avventura, però nulla che non si sia già visto in migliaia di altre opere analoghe. A tal proposito, ci sono anche degli approfondimenti finali, ci sono anche degli approfondimenti finali, c'è qualche pagina, molto interessante, secondo me forse addirittura la parte più interessante dell'albo, dove si va un po' a citare tutte le possibili fonti di ispirazione, non soltanto fumettistiche, ma anche e soprattutto letterarie, e cinematografiche. Parlando di libri, ci si incentra sul tema della ricerca del tesoro, quindi si parte addirittura dagli argonauti, si va a toccare l'isola del tesoro, il conte di Montecristo, addirittura cinematograficamente si cita Uomini e Cobra, il film con Henry Fonda e Kirk Douglas, mi pare, e sempre cinematograficamente parlando si fa riferimento in questi approfondimenti anche a Il tesoro della Serra Madre, che secondo me è un film fantastico, con un grandissimo Humphrey Bogart, diretto dal grande John Huston, quello del mistero del falco, per cui è un film molto bello, non è un vero e proprio western, ma anche qui c'è la ricerca di un tesoro, appunto il tesoro della Serra Madre, lo suggerisce il titolo, un film veramente interessante, vi consiglio di recuperarlo, vedete, viene citato anche qui, vedete Humphrey Bogart, ma cinematograficamente parlando si cita anche altro, vedete qui c'è una foto di Stuart Granger, altro attore celebre dell'epoca, in quest'ultima pagina compaiono alcune locandine cinematografiche, c'è un film con Glenn Ford e Ida Lupino che io però non ho visto, ma si cita Timbuktu con John Wayne e Sophia Loren, si cita una moltitudine di film dell'epoca, Robert Taylor, Glenn Ford, insomma film b-movie dell'epoca, in salsa western, che proponevano avventure di questo genere. A livello letterario invece è chiara ancora una volta l'ispirazione a Emilio Salgari, che poi era lo scrittore, il romanziere preferito da Gianluigi Bonelli. Tra l'altro Salgari si cimentò anche in alcuni romanzi western, come ad esempio La scotennatrice, che io posseggo in questa versione, ancora incelofanata, come potete vedere, questo fa parte della collana che fino a qualche tempo fa compravo di Emilio Salgari, della RBA, collana che ancora prosegue, e sempre legato al western, avevo preso di Emilio Salgari sulle frontiere del far west, che non ho ancora letto, infatti sono ancora incelofanati, li aprirò poi quando li leggerò, ma sicuramente Rio Kid deriva anche da quel tipo di romanzi. Per cui, questo è quanto, io non posso fare altro che citarvi qualche dato tecnico, beh, gli autori coinvolti ve li ho già detti, lo trovate in edicola al prezzo di 4,50 euro, lo troverete in edicola fino al 13 maggio, quando poi uscirà appunto il sergente York, sempre con Roy Dami coinvolto, non ve lo consiglio, lo consiglio soltanto agli strettamente appassionati di genere western, che sicuramente l'avranno preso senza aspettare questa mia video-opinione a riguardo, e che cosa dire, fatemi sapere come l'avete inteso, nel caso l'abbiate comprato e letto, io vi ringrazio per l'ascolto, se vorrete parlarne sarò a vostra disposizione qui sotto nei commenti, per il resto vi auguro un buon proseguimento di giornata, non so se pubblicherò altri video oggi, ma nel caso vi do appuntamento al prossimo video, ovviamente a voi piacendo. Ciao a tutti e grazie per l'ascolto. Ciao! Ciao!